Abbiamo giocato bene, abbiamo una difesa forte, un bel centrocampo, si capisce che vive e se bianchi sono stati due innesti fondamentali per la salvezza, secondo me ci salviamo comodamente. Ho considerazioni bene, tutto bene oggi. Una grande prova. Sono tre punti importanti perché vengono da una lunga serie di risultati utili e consecutivi, però la salvezza è ottima. Non ho visto gli altri risultati dell'altra squadra però. Non è meno io, però l'importante è che la prova non abbia perso da tante partite, stava facendo punti da parecchio. Era da 30 dicembre che non si segnava e non si vinceva in casa. Siamo più fiduciosi da questa partita. Dai, ci salveremo, speriamo. Forza pro sempre. Grazie. Ciao. Migliore in campo oggi? Migliore in campo secondo me è Palazzi, che correva su e giù, tamponava, bel giocatore. Chi è stato il migliore in campo oggi? Secondo te? Morra. Peggiore? Nessuno. Nessuno. Finalmente il nostro allenatore ha capito che se mette due punte forse riusciamo magari a portare a casa un risultato positivo. Perché alla fine mettendo Morra li abbiamo tenuti un po' più avanti e non siamo rimasti risucchiati indietro come è successo l'ultima volta in casa. Bravo Moreno, per una volta.